fare manutenzione alla cappa è fondamentale per un semplice motivo aspiro molto più velocemente elimino cattivi odori molto più rapidamente e rendo la mia cappa efficiente anche a livello energetico la maggior parte delle cappe di nuova generazione sono dotate di filtri cattura grassi metallici come questi 1 e 2 il filtro cattura grassi di una cappa può essere rimosso attraverso questa linguetta basta spostare la linguetta che il filtro viene giù comodamente il filtro cattura grassi metallico ha la particolarità di poter essere lavato all'interno della lavastorina una volta al mese è buona norma effettuare un lavaggio la cappa di tipo aspirante non necessita obbligatoriamente di un filtro cattura odori nel caso in cui invece la vostra cappa è una cappa filtrante c'è la necessità di dotare e sostituire poi dei filtri a carbone attivo basta seguire le indicazioni e a rimuovere il filtro a carbone attivo uno e due i filtri a carbone attivi hanno degli aganci che serviranno poi per poter rifissare il filtro cerco di posizionare questi tre incastri un consiglio che posso darvi è accendere la cappa cinque minuti prima che io li metta i bornelli e spenderla dieci minuti dopo così da eliminare perfettamente tutti i cattivi odori sul nostro sito di sperpatti trovate una vasta gamma sia di filtri a carbone attivo sia di filtri metallici sia di filtri universali cattura grasso da poter ritagliare a seconda della misura della cappa spero anche questa volta che i miei consigli mi tornino utili e al prossimo tutorial grazie Grazie a tutti.